Allora, ci puoi spiegare che cosa è successo esattamente nel luogo in questione? Detective? Questa cosa non andrà come volete voi. A tutte le unità hanno sparato quattro agenti di polizia. A che punto siamo con la task force? Voglio poliziotti di cui possiamo fidarci. Ti voglio nella squadra. Gli uomini uccisi erano al comando di tuo fratello. Trova chi ha ucciso quei ragazzi. Scambiatevi informazioni, indizi, sensazioni, scrivete tutto e mandatelo a me. Chi ha sparato, chiunque fosse non era un dilettante. Senti, ti devo dire alcune cose. Non le ho dette ancora a nessun altro. Ho parlato con quella ragazza. Lei dice che era un poliziotto. Me lo dirai. Dimelo! Ma che sta succedendo qui? Ci siamo venduti al migliore offerente. Non dovevano morire. Dici che dobbiamo insambiare tutto. Ragiona. Si coprivano tra loro seppellando la verità. Quello che fa sembrare i poliziotti colpevoli non va bene. I reati diminuiscono, gli arresti aumentano. È quello che volevi. Il fine giustifica i mezzi. Stanotte finisce tutto. Avete pistola e distintivo. Sono il passaporto per tutta la città. Sei un poliziotto, Ray, proprio come noi. Sei un poliziotto, Ray. Proprio come noi.